bene qualcuno si è chiesto come io spedisco gli accendini imco allora ho evitato di mettere gli scatoloni degli scatoli diciamo quantitativo perché è stupido tutte le volte che si fa un video a far vedere la quantità insomma ci sono e basta se quelli che lo sanno lo sanno quelli che non lo sanno mi dispiace per loro allora come avviene la spedizione sto parlando mia personale dopo gli altri fanno quello che vogliono gli altri usano quelle bustine di questo colore qui avana di quelle mille bolle smolleghente che a me sinceramente quando io ricevo quando io ordinavo su internet e ricevevo tutte le robe dentro quelle bustine del cazzo lì che arrivava la roba a mezza maciullata io ho smesso di acquistare diciamo su quei siti lì ieri ho chiuso amazon non compro più da amazon perché tanto a me sinceramente comprare da amazon per me è solo un degrado ecco allora io ho un amico che ha una fabbrica grossa e che fa le carte diciamo da imballo insomma ecco di scatoloni da imballo e lui mi ha detto carlo guarda che per quello che devi fare te ti va bene le scatole premontate sotto che sarebbero queste e sopra praticamente all'americana cioè con la chiusura a lembi così e quindi questa scatola qua sarà messa in questa maniera poi abbassando i lembi così 1 2 3 e alla fine si tira su questo e si fa entrare qua sotto e la scatola automaticamente è già montata avete visto con una mano sola in 30 secondi poi io per sicurezza dentro ci metto sempre uno scotch in modo che questo qua stia perfettamente piano e anche perché da sotto non si possa aprire ecco dopo ci faccio un arrotolamento di carta morbida gli accendini li metto dentro lo scottex uno cada uno piegati rimetto uno o due o uno solo dipende o tre o quattro quello che uno vuole poi sopra ci va una seconda carta di chiusura in modo che riempia il vuoto a livello di volume ma non schiacci il prodotto e soprattutto se questo qui cade anche dal cinquantesimo piano questo qui non si fa completamente nulla poi seguirà la chiusura così scotch qui verranno impressi il destinatario e nella facciata opposta laterale verrà impresso il mittente cioè sottoscritto ecco fatto come avviene la mia spedizione e queste qua sono le mie scatolette eccole qua che costano che costano un sacco una sporta perché le pago un euro l'una io queste scatolette qua perché dopo ci sono quelli che ordino su su rack pack raya pack eccetera eccetera che ti manda quelle scatoline che dopo quando quando le hai aperte e chiuse due volte praticamente rimani a piedi con la scatolina figurati se io vado a comprare quella merda lì solo per risparmiare 20 centesimi quindi c'è un amico a verona che ha questa fabbrichetta che produce tutti i tipi di scatolati e quindi non sto facendo pubblicità a lui sto solo dicendo che io me le faccio fare ex 9 e per me non le faccio fare non prendo le cose standard che trovate da tutte le parti quindi di conseguenza eccole qua e in una scatola così da uno fino a cinque accendini o sei quello che è ci stanno dentro non è un problema poi ci sono le raccomandate eccole qua e le raccomandate noi abbiamo già i prestampati in casa già codificati e tutto dei quali questi qui sono stati spediti esattamente questa mattina ecco qua il giorno 9 del 5 del 2024 alle ore 8 e 22 sono già stati spediti due pacchetti e questa qua è la ricevuta delle poste di pagamento delle poste italiane quindi se voi avete la mania di ordinare in internet c'è anch'io vendo in internet per carità però insomma io vendo la mia maniera cos'è questa mia maniera che io praticamente come piace che arrivi la roba a me quando io la ordino ho lo stesso identico piacere di farvelo arrivare a voi perché io sono reduce di arrivi di materiale imballato col buco del culo anche da da aziende grosse di elettronica della sicilia eccetera eccetera una volta mi sono arrivati sei pacchi del volume di 50 per 70 per 40 uno sopra l'alto alti un metro e venti e ci mancava il bancale di legno sotto e con la forca quelli del muletto quelli degli spedizionieri hanno inforcato tutti gli autoparlanti che c'erano sotto perché non c'era il bancale e dopo ho dovuto contestare perché tutta la parte tutti i due scatoloni affiancati sotto erano tutti smacciullati ecco e c'erano dentro otto autoparlanti da 30 centimetri ma questo mi è successo anche su ordini inferiori su ordini più piccoli di pacchetti di questo che loro ti mandano quelle bustine flosce quelle lì che mille bolle che dopo imposta lo buttano di qui lo buttano di là al centro del smistamento a bologna lo buttano dentro uno scatolone poi arriva il corriere il corriere lo porta a brescia a brescia cioè vengono smistate 5 6 7 8 volte vengono smistati questi pacchi prima che arrivino a voi e poi quando trovate il postino o il corriere che se ne sbatte i coglioni vi butta la roba là nel caso mio invece la raccomandata siete obbligati a firmarla e di conseguenza la prendete e la toccate con mano il prodotto che vi arriva e quando vi arriva il prodotto il mio io non sto parlando di quello degli altri gli altri quando comprate dagli altri quelli sono affari vostri io non c'entro quando vi arrivano i miei che sia l'accendino o che sia o che sia qualsiasi altra roba vi arriverà sempre in confezione di cartonato rigido ecco questi qua sono quando sono diciamo quando noi li chiamiamo a riposo che magari ti mandano dei pacchi alti in mezzo metro con dentro 200 300 50 700 quello che sarà scatolette ti arrivano i cartoni pieni o me li vado a prendere io quando vado a fare un giretto magari da lui e loro te li danno a riposo cosa vuol dire non ancora preformati te li danno così che dopo tu li metterai in piedi e dopo abbiamo visto come facciamo a montarli ecco allora quando voi vi vedete arrivare a casa scatolati così che dopo la scatola potete sempre riutilizzarla perché voi con un cutterino come questo aspetta un attimo che ne prendiamo uno poi tagliate sopra aprite e lo scatolino vi verrà utile anche dopo ovviamente ci saranno le mie etichette quella roba lì ma vabbè insomma a un certo punto posso mica facci niente insomma io per spedire sono obbligato a mettersi le etichette oltretutto io quando lo chiudo lo chiudo sopra sotto li faccio un giro di nastro con questo nastro qua lo giro tutto attorno anche qua sotto in maniera che di fare il giro completo a 360 gradi in maniera che lateralmente sopra sotto da tutti i lati sia chiuso con lo scotch in maniera che se qualcuno tenta di aprirlo prima di consegnarvelo a voi vuol dire che qualcuno l'ha aperto perché io lo scotch tutto attorno ecco questo è il mio modo di spedire i pacchi raccomandata post italiane prestampati accendini originali imco che abbiamo visto il video ieri ognuno dentro il suo fazzolettino a doppio velo praticamente morbidissimo vedi quelli che ci mettete un palloncino volano però praticamente sono iper protettivi doppio scatolamento interno di protezione doppia praticamente sotto per fare lo spessore in modo che non picchi sotto quando vanno dentro gli accendini come questi per esempio mettiamoli così senza bisogno di far di scartocciarli poi ci si mette questo qua sopra in maniera che gli accendini è come se fossero in una specie di sospensione nel limbo nel senso che praticamente sono protetti sotto sono protetti sopra non sono schiacciati e la carta serve solo a riempire il volume arioso l'aria che c'è dentro di riempire in modo che lo scatolino non si schiacci premesso che questo qui è un due onde un'onda e mezza dunque cartoncino pesante quindi di conseguenza la situazione a me piace che a casa vostra arrivi in questa maniera ecco qua con questi scatolini qua bene come fanno gli altri a spedire le cose quelli saranno a fare i loro e a fare i vostri che ricevete i pacchi dagli altri io a casa mia quando ricevo un pacco che non è fatto così o che sia diverso per carità a seconda del contenuto se non è un cartonato americano come questo o un altro tipo di cartonato rigido col materiale dentro io lo rispedisco sempre al mittente perché dopo una volta che tu hai firmato che hai ricevuto la merce dopo tu prova a contestare perché dopo loro quelli che te l'hanno venduta dicono che è colpa tua è colpa del corriere è colpa di babbo natale loro invece non hanno nessuna colpa a spedirti la roba col buco del culo loro non ne hanno mai la colpa io invece sono abituato a spedire la gente così qualsiasi cosa che sia un accendino che sia una roba di elettronica io ho sempre spedito in questa maniera niente a qua ci sono le mie le mie befanine che ne avevo comprate un sacco nasporta ad asiago bassano del grappa folgaria ne ho comprate anche alte un metro e venti un metro e trenta che poi ho regalato praticamente anche a istituti e adesso è passato il periodo comunque insomma sono carine ecco perché io praticamente provengo da zone dove ci sono antiche tradizioni diciamo adesso c'è la moda dell'alouen io invece vengo dalle zone dove c'è la tradizione del natale e della befana ecco tutto quanto niente ritornando a noi a me dispiace che la gente riceva le robe col spedite col cazzo scusate il termine io nel mio piccolo faccio così ecco queste qua sono le due spedizioni di questa mattina giorno 9 maggio 2024 alle ore 9 anzi sono già tornato perché la spedizione è stata fatta alle ore 8 e 22 di questa mattina eccolo qua spedizione 8 virgola 65 euro quindi quando io chiedo 8 euro e 50 di spedizione non vi ho inculato neanche un centesimo perché gli altri quando fanno la spedizione vi caricano 10 euro anche questo tenetelo presente queste qui sono le spese vive di di ogni spedizione 8 euro e 45 e 65 la tarifa della spedizione di una mia raccomandata col pacchetto logico che se ve la spediscono con quella carta mille bolle che pesa 50 grammi meno la spedizione costa 6 euro e 30 però come dicevo io sono abituato a spedire così se non a qualcuno non sta bene non preoccupatevi perché a fronte di persone a cui non va bene spendere 30 centesimi in più 40 centesimi in più ci sono persone che invece apprezzano che il materiale li arrivi sano fatto bene e con e soprattutto con scatoline nuove e non riciclate perché io qua non riciclo nulla anche questo questo qui proviene dai rotoli scotex che compro da 800 strappi gli accendini anche se sono degli anni 90 sono sempre originali e nuovi le raccomandate sono già prestampate e tutto quanto di conseguenza sono ufficiali le scatoline come abbiamo detto sono queste che vi arrivano e io non ho niente da ricriminarmi chiusura con roller pack trasparente ovviamente perché se lo metto marrone dopo alla fine non si vede più la scritta e tutto quanto e via quindi qualcuno mi ha chiesto ma tu come fai a spedire è bella domanda cari questa domanda qua dovete farla agli altri alle altre persone a cui vi rivolgete per gli acquisti non dovete farle a me queste domande perché io sono abituato a essere corretto dalla a alla z con la gente e lo sono sempre stato dal 1974 cioè da oltre 50 anni fa cioè 50 anni fa dai eh ho sempre reagito così e e siamo nel 2024 che ormai anch'io ho una certa età e sempre così andrò avanti quindi se avete qualche remora fatela a chi vi spedisce le robe con le buste quelle lì della fighetta che vi mandano con la posta 1 posta 2 che non sapete neanche se vi arriva o meno il materiale prendetevela con loro io ragiono in questa maniera basta chiuso io non ho altro da ricriminarmi e chi mi ha chiesto come si spedisce i pacchi come li spedisco io i pacchi e come dovrebbero spedire tutti i pacchi adesso vi ho messo di fronte a una realtà dunque vorrei essere da monito anche per da oggi in poi da tutti quelli che vi spediscono le cose di di cominciare a imparare come si fa a spedire la roba alla gente perché la gente paga ed è giusto che quando uno paga che gli arrivi anche la roba messa bene dentro gli scatolini messi a posto bene e soprattutto che gli arrivi in sicurezza e soprattutto ulteriore a monte di tutto che vi arrivi sicuro tramite la comandata tracciabile questo qui è il numerino della tracciabilità eccoli qua questi sono i numerini ecco quindi di conseguenza prima di tutto che la roba sia sicura seconda roba che il prodotto che uno vi spedisce sia onesto è vero terza cosa che il pacco che vi arrivi sia sicuro come la raccomandata e come l'autenticità del prodotto ecco chi mi conosce da tanti anni da 30 40 anni sa che non ha neanche bisogno di vedere questo video chi invece mi conosce da poco ho piacere di far vedere come stanno le cose è logico che a molti venditori del fai da te che vogliono incamerare tanti soldi con la minima spesa non saranno d'accordo ma io a me di loro non interessa io guardo il mio cortile come lavoro io e come faccio i mestieri dopo gli altri che si facciano quello che vogliono ragazzi scusate la lungaggine però questo qui andava fatto perché due o tre persone mi hanno chiesto il sistema con cui praticamente avviene la spedizione la spedizione in sé non è complessa però è complesso il sistema celebrale della gente che vogliono prendere tanto e non vogliono investire nulla io invece praticamente a fronte di un accendino che vendo tra package tra raccomandata tra una roba tra l'altra tra perdere il tempo imposto a spedire essere là le 8 puntuale di mattina e tutto quanto io investo il 250 per cento in più di tutti gli altri venditori a cui voi vi riferite che questo sia chiaro ciao a tutti